In considerazione dei risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane proseguono i servizi di presidio e controllo delle zone del centro storico di Catania ulteriormente intensificati alla luce dell'incremento di presenze di cittadini e turisti. Infatti in attuazione delle direttive del ministro dell'interno e secondo quanto concordato in sede di comitato per l'ordine della sicurezza pubblica tra il prefetto di Catania e i vertici provinciali delle forze di polizia allo scopo di garantire il sereno svolgersi delle serate del fine settimana allorquando sono numerosi cittadini e i turisti che specie in ore serali e notturne animano le zone della Movida, il questore di Catania con propria ordinanza ha predisposto mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico anche a tutela dei clienti dei locali, dei residenti e dei titolari delle numerose attività commerciali. I dispositivi realizzati hanno operato su una zona di intervento al cui interno si trovano numerosi pub locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché consueti luoghi di ritrovo. Nell'area operativa compresa tra piazza Bellini e le vie Antonino di San Giuliano, Monsignor Ventimiglia, Landolina e Coppola i servizi sono stati eseguiti da agenti della questura di Catania, della polizia scientifica e della polizia stradale, dai militari della guardia di finanza coordinati da un funzionario della polizia di stato, mentre equipaggi dei carabinieri hanno operato in piazza Federico di Sveglia. Tali presidi inoltre si sono avvalsi della collaborazione di equipaggi della polizia locale. I dispositivi di sicurezza così composti hanno assiduamente vigilato sulla situazione effettuando un'attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all'interno delle aree pedonali al fine di prevenire comportamenti eccessivi di disturbo e comunque improntati all'illegalità. Nel corso dei servizi inoltre è stata eseguita una capillare per l'ustrazione delle piazze e delle vie circostanti alternata alla realizzazione di diversi posti di controllo. Le pattuglie in particolare hanno svolto mirati servizi per contrastare le violazioni in materia di sosta. Nella zona circostante piazza Bellini gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l'accesso alla zona pedonale dalle strade laterali soprattutto di motocicli ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa come lo spaccio di stupefacenti o l'abuso di alcolici tra i giovani. Con questo obiettivo in piazza Bellini gli agenti della polizia stradale hanno eseguito soprattutto controlli del tasso alcolemico. Nel corso dei servizi nell'area di via San Giuliano Teatro Massimo sono state identificate 77 persone e controllate 13 veicoli con la contestazione di 8 contravvenzioni al codice della strada mentre nella piazza Federico di Sveglia sono state 34 le persone e 29 veicoli controllati. Qui le infrazioni alle norme del codice della strada sono state 10. Inoltre sono stati controllati diversi esercizi commerciali grazie sempre all'attività preventiva dinamica poste in essere e ai presidi attuati nelle zone in cui sono stati eseguiti i servizi non sono state registrate criticità.